Il presidente iemenita, Abed Rabbo Mansouradi, ha siglato un accordo per un cessate il fuoco con i ribelli sciiti dopo gli scontri nella capitale Sanaa, vicino al palazzo presidenziale. Il presidente, che al momento degli incidenti si trovava nella sua residenza privata, distante dai combattimenti, ha in agenda un vertice con i suoi consiglieri politici e i rappresentanti degli insorti. Il canale tv dei ribelli ha accusato l'esercito di aver aperto il fuoco contro i miliziani nell'area del palazzo, mentre un alto funzionario militare ha affermato che gli sciiti hanno provocato gli scontri, attaccando alcuni checkpoint militari. Lo Yemen vive da tempo una grave crisi interna per la lotta di potere tra il presidente Rabbo Mansouradi e i ribelli sciiti, che hanno preso il controllo della capitale nel mese di settembre. Ho!